ciao ragazzi oggi vi mostrerò due modi per fare un aeroplano di carta allora prendiamo il foglio e pieghiamolo in due parti facendo combaciare i bordi precisamente poi pieghiamo la punta ottenendo due triangoli in questo modo poi giriamolo e facciamo la stessa operazione dall'altro lato assicuriamoci che le punte combacino bene giriamolo ancora una volta e facciamo la prima piga di quelle che poi saranno le ali in questo modo e poi ripetiamo la stessa operazione dall'altro lato e passiamo alla seconda piega per completare l'ala in questo modo stesso procedimento dall'altro lato in questo modo e il primo tipo d'aeroplano è fatto questo è il secondo tipo pieghiamo di nuovo il foglio in due parti uguali questa volta per piegare la punta ripieghiamo i triangoli verso l'interno il primo e il secondo ripieghiamo in due parti uguali e procediamo con le ali prima piega uguale dall'altro lato e la seconda piga per l'ala ancora una volta uguale dall'altro lato e il nostro secondo tipo di aeroplano di carta è fatto a questo punto personalizzate i vostri aeroplani decorandoli o colorandoli come preferite a questo punto il nostro percorso è un'altra Grazie per la visione! Grazie per la visione! Come sempre mettete like, commentate e condividetelo e scrivetemi nei commenti se volete che porti altri video di questo genere. Al prossimo video!